Sono quasi 600.000 euro per la precisione 580.000 il totale dei danni dopo l'ondata di maltempo che lo scorso 15 settembre ha colpito la zona di Montecchio Vesponi nel comune di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Agnelli ha inviato al presidente della regione toscana Eugenio Gianni una lettera dove si richiedeva lo stato di emergenza. In tutto sono stati colpiti 35 nuclei familiari oltre agli interventi pubblici in strutture sportive in una scuola e nelle strade comunali interessate da smottamenti frane. Mi sono confrontato con il governatore Eugenio Gianni ha detto Mario Agnelli che a sua volta mantiene un filo diretto con la protezione civile nazionale alla quale si moltiplicano le richieste per lo stato di calamità nazionale. È evidente che non sarà una questione di facile risoluzione conclude Agnelli ma anche il governatore memore di quella tremenda nottata che provocò oltre a morte e distruzione nelle Marche con la stessa perturbazione abbattutasi su Castiglion Fiorentino ha ben chiaro quali sono le nostre richieste per le quali si sta adoperando.